eccoci qua buongiorno e ben ritrovati amici di Cogito Ergo Evolvo oggi una puntata super speciale molto molto speciale siamo tutti e due molto molto contenti perché perché facciamo un'intervista oggi abbiamo un ospite Mauro Berruto che ringraziamo di essere qui Cogito Ergo Evolvo la mia trasmissione è già preferita l'idea è proprio appunto di fare una collezione di tutti i pensieri per evolvere quindi qualsiasi atteggiamento comportamento modo di comportarsi fare che porti a una riflessione ma anche un'evoluzione chi meglio di te può portarci anche in questo viaggio in questa parte ma intanto chi è Mauro è laureato in filosofia è stato per 25 anni allenatore professionista di pallavolo in Italia Grecia Finlandia nel 2010 è diventato CT della nazionale italiana maschile di volley con cui ha vinto il bronzo dei giochi olimpici di Londra 2012 l'abbiamo anche visto ieri poi ne parliamo nel lecture show e altre sette medali competizioni internazionali è stato direttore tecnico delle squadre olimpiche maschile femminili per la federazione italiana di tiro con l'arco e vincendo anche il bronzo mondiale 2019 con la squadra di mixed team che abbiamo visto anche ieri un paio di momenti anche quelli molto intensi molto molto belli e ha scritto due romanzi di cui uno è tratto anche questo lecture show capolavori collaboratore poi autore per iSport e anche amministratore delegato del 2016 2018 della scuola Holden quindi la scuola di storytelling una delle più importanti d'europa Mauro faccio io a voi la domanda ma cosa c'entra tutto questo con una persona che ha allenato in uno sport importante bello come la pallavolo esatto ma la domanda è evidentemente retorica nel senso che non sono riuscito neanche a spiegarlo a mia mamma ancora i passaggi necessari però diciamo che partiamo dal cogito in onore vostro non sono stato un campione di pallavolo e questo è evidente e quindi il mio arrivare a esercitare il gesto dell'allenare è passato attraverso una strada diversa lunga un giro lungo come si direbbe in antropologia che poi la mia disciplina di laurea è la mia vera passione ed è curioso e sono molto orgoglioso del fatto che questo questo giro sia partito da una laurea in filosofia che evidentemente testimona che una laurea in filosofia si può fare qualunque cosa dal taxista alla natura nazionale di pallavolo infatti abbiamo detto beh il passo da dalla laurea in filosofia con specializzazione in antropologia culturale poi infatti è una cosa che ci ha colpito molto no anche questo questo spaziare perché noi puntiamo molto con cogito su sulla questione delle competenze trasversali sul fatto delle delle life skills quindi dell'abilità di vita che puoi applicarle dovunque e in qualsiasi momento è curioso che tu lo chiedi a me che sono un uomo del novecento cresciuto e e laureato in una struttura novecentesca in cui esattamente come tu dicevi lo sviluppo del sapere della conoscenza era esclusivamente verticale cioè tu dovevi saper fare molto bene una cosa e le altre certamente non aiutavano o quantomeno non era opportuno no perché sembrava togliessero qualche cosa a quella competenza verticale grazie al cielo no grazie al cielo grazie alla rivoluzione digitale prima e poi anche se è difficile dirlo in questi termini ma grazie a questa pandemia nel senso che la definitiva accelerazione di un percorso e di un processo iniziato con la rivoluzione digitale è stato negli ultimi 15 mesi ripeto accelerato dalla pandemia oggi abbiamo evidenza assoluta che quel modello fondato solo sulla verticalità sia storia nel senso sia qualche cosa che riguarda il passato oggi non c'è dubbio che la capacità di incrociare quelle competenze verticali che rimangono e non è che uno debba annullare il fatto che possa diventare esperto di qualche cosa ma certamente quel tipo di conoscenza non ha più valore non ha più senso se non è capace anche di muoversi per linee orizzontali tant'è che si dice navigare sul web surfare sul web muoversi per linee orizzontali alle persone della mia generazione dire sei profondo era un complimento dire se superficiale non insulto bisogna uscire dal giudizio oggi bisogna continuare ad essere profondi certamente a sviluppare delle competenze ma bisogna essere capaci di far muovere quelle competenze anche in un'altra dimensione quindi non è che una cosa escluda l'altra in questo caso ci si muove in un sapere che passa attraverso una dimensione che è una cosa in più una cosa nuova questo purtroppo diciamo la mia generazione fa ancora un po fatica ad accettarlo è vero è vero però siamo tutti e due non molto d'accordo su questa cosa qui perché puntiamo sempre ai giovani soprattutto ma anche non più tanto giovani si esatto si voglia approcciare comunque al mondo della crescita personale che alla fine basta anche poco basta anche un guarda io faccio sempre un esempio che è banale ma spero renda l'idea tu puoi essere un bravissimo taxista essere super esperto del tuo mestiere essere anche uno smanettone che programma le app sul computer e fino a lì tu rimani con le tue due competenze verticali se incroci quelle due cose e inventi uber allora hai creato innovazione e l'innovazione è proprio nell'intersezione di quelle conoscenze le cose che non ci sono compresi i mestieri che saranno quelli che vedremo in futuro nascono proprio dall'inter nei luoghi di intersezione di queste competenze di questi saperi verticali e questo è molto bello tra l'altro è molto affascinante e aggiungo un'altra cosa che di grande discontinuità rispetto alle persone cresciute in quel modello novecentesco di sapere impone una meravigliosa necessità di un aggiornamento continuo non esiste più il come dire l'icona di colui che terminato il suo percorso di studi incomincia la sua professione e grazie al suo percorso di studi sviluppa la sua professione oggi siamo chiamati tutti in questo veramente senza distinzioni da dal diciottenne al settantenne siamo chiamati tutti a un processo di formazione aggiornamento continuo che è meraviglioso però perché esatto soprattutto per quanto riguarda poi come diciamo prima le soft skills quindi alla fine parleremo anche di come parlare in modo efficace come relazionarsi con le persone intelligenza emotiva sono tutti temi che sono estremamente importanti e lo sono sempre stati adesso hanno un ruolo ancora maggiore guarda torno all'esempio di prima ne parlavo proprio di questa cosa con un'azienda recentemente è un'azienda di ingegneri fondamentalmente formata da persone di competenza scientifica molto solida e dicevo fino a vent'anni fa un ingegnere che da giovane avesse fatto il frontman di una rock band che suonava nelle fiere di paese nel suo curriculum neanche lo scriveva quella cosa lì perché come dire il messaggio che passava era quello che tu hai fatto una cosa che toglieva come dire un certo senso di quella profondità cui facevamo riferimento prima oggi nel mondo contemporaneo avere un ingegnere che è stato un frontman di una rock band è evidente che è un vantaggio in termini di comunicazione di empatia di costruzione di squadre non c'è dubbio allora quella competenza che prima era ripeto qualche cosa da nascondere oggi diventa un elemento del curriculum esatto è passato da un da una così da un tra virgolette passa a metà meno un difetto certo a un punto di forza esatto è molto molto come intrecciato poi queste queste competenze trasversali con il mondo dello sport ma allora io ripeto sono profondamente legato al mio percorso universitario in particolare a un genio che io ho avuto la fortuna di avere come come docente come insegnante che come laureatore di tesi che è un antropologo si chiama francesco remotti e che pensate nel 1992 scriveva un libro profetico che si intitolava si intitola tuttora contro l'identità lui è stato un grande ricercatore sul campo e quindi diciamo tutta quella parte lì legata a temi che hanno a che fare ovviamente con l'antropologia per esempio la costruzione di identità per esempio insomma una serie di meccanismi che regolano la vita fra le persone è chiaro che nei miei spogliatoi l'ho riprodotto nel senso certamente è stata una competenza apparentemente lontanissima da quello che mi serviva ma che nel mio modo di creare e costruire squadre è stata decisiva poi l'altra fortuna quella come sempre succede di avere avuto la possibilità nella parte iniziale della carriera di lavorare al fianco di alcuni grandissimi allenatori e quella rimane una parte insostituibile nel senso che non c'è corso d'aggiornamento che tenga rispetto alla possibilità di affiancarsi a un maestro sì quindi ai diversi mentori sì almeno due che sono due grandissimi allenatori di quando io ero giovane uno con cui non ho lavorato diciamo in palestra insieme ma che era un riferimento assoluto e mi riferisco a giulio velasco che ha proprio un po cambiato la figura dell'allenatore anche all'interno del contesto sportivo e l'altro invece con cui ho lavorato per tanti anni giampaolo montali diventato poi commissario tecnico della nazionale quindi mio collega entrambi poi diventati i miei colleghi e con lui aggiungo non solo la fortuna di lavorare insieme ma anche la fortuna di andare a finire per due anni nell'inizio mia carriera in grecia a lavorare che ho capito essere la vera fortuna quando poi dopo un po di anni sono finito in finlandia a lavorare per sei stagioni e vi assicuro che che la cosa più importante della mia carriera è stata quella cioè avere a che fare con dei modelli anche culturali apparentemente di nuovo molto distanti allenare atleti greci e finlandesi non è la stessa cosa chiaramente con uno stesso obiettivo cioè vincere partite di pallavolo però quell'esperienza lì che ha uno spread abbastanza ampio per me è stata decisiva rispetto proprio la definizione del ruolo di allenatore dove uno io sono sono contro la l'esistenza del metodo universale ci sono degli allenatori che fondano il loro principio su questa cosa cioè io ho il mio metodo dovunque io vada esatto dovunque io vada applico quel metodo lì per me è esattamente il contrario nel senso il metodo è un è uno strumento flessibile fluido e la bravura di un allenatore e di saperlo adattare al modello culturale nel quale sta agendo e quindi per me quella è stata poi diciamo il passaggio definitivo e ovviamente fino adesso non vi ho parlato per un minuto di competenze tecniche nel senso che che però immaginerete sono state un pezzo importante perché io tra l'altro non essendo stato un atleta ho dovuto proprio insomma dimostrare ai miei giocatori spesso anche più vecchi di me perché ho iniziato a allenare molto giovane che avevo anche la conoscenza della materia perché poi senza di quello è ovvio insomma tutto finisce molto in fretta sono da da sostegno no ovviamente poi la tecnica ci deve essere però appunto come abbiamo già detto prima adesso non bastano nel senso servono quelle quelle abilità essenziali che abbiamo detto prima e anche ieri secondo me è emersa questa voglia di di mettere in relazione le persone cioè quando si è parlato ad esempio delle dell'intelligenza collettiva con quella bella poesia di primo levi e proprio come emerge anche in un fattore magari del tiro con l'arco che proprio tu ieri ti sei riferito al contrasto tra pallavolo e tiro con l'arco e come emergono le relazioni sempre il lavoro di gruppo certo la squadra ma proprio questa questo sapere antropologico potremmo dire di creare relazioni guarda io sostengo che non esistano gli sport individuali è un è un modo di categorizzare di discipline diverse ma non c'è dubbio che anche nel più individuale degli sport ea me per me è stato molto divertente non mettermi a confronto rispetto a uno sport che è stata la parte più importante della mia vita dove certamente non c'è dubbio insomma che la pallavolo sia uno sport di squadra in uno sport che viene interpretato come in maniera molto individuale e però la realtà delle cose che qualunque performance qualunque prestazione compresi 50 secondi di che abbiamo visto ieri di yuri che chino che sono un'opera d'arte ma sai tutto quello che succede fino a quando lui impugna gli anelli è il prodotto di un lavoro di squadra che gli permette di arrivare fino a lì esatto è chiaro che il grande campione è assolutamente come un grande artista nel senso è capace poi di interpretare la performance ma tutto quello che c'è alle spalle è necessario per poter arrivare a impugnare quegli anelli quel giorno a quell'ora insomma e fare poi la tua performance d'artista quel desiderio che abbiamo parlato sempre ieri di desiderio quel si vedeva proprio nell'atteggiamento cioè lui non pensava era certo quello una sorta di stato di flusso no si dice sì che è un tema molto ricorrente nel mondo dello sport è proprio la sensazione di quando tu hai un perfetto allineamento fa mente corpo e la totale capacità di essere nel qui e nell'ora quando c'è quella sincronia se tu lo chiedi a un pallavolista per esempio gli chiedi di descriverti che cosa sia questo flu flow la risposta di solito nella pallavolo è vedo le cose come se fossero a rallenti quindi una dimensione di sincronia totale che modifica la percezione del tempo e quindi tu ovviamente in un contesto normale è come se vedessi la palla che viaggia più piano più lentamente e quindi ovviamente arrivi in anticipo no e chiaramente questa cosa vale anche al contrario nel senso ci sono dei momenti come non so quando i calciatori devono tirare un rigore al novantatresimo e vedono un portiere che sembra altro tre metri e mezzo e invece insomma è sempre di quella dimensione lì però è proprio una una percezione diversa del tempo normalmente la definizione che un atleta dà del suo stato di flusso perché immagino che sia anche una cosa abbastanza soggettiva non di come uno perché poi ci sono magari delle costanti ad esempio nel qui ed ora la distorsione temporale ma guarda se tu chiedi a iuri che ho la fortuna di considerare un amico di raccontarti quell'esercizio che abbiamo visto ieri lui non si ricorda niente lui si ricorda il momento che in cui è incominciato e il momento in cui ha messo i piedi a terra dopo l'atterraggio quello che c'è stato in mezzo la cosa affascinante è che frutto certamente di migliaia di ore di ripetizione di allenamento di dettagli di errori eccetera eccetera ma che arriva a portarti nel momento più importante a un'esecuzione ecco come se fosse di un pilota automatico si infatti è una cosa che a volte è capitato anche a me magari ho fatto diversi anni di pugilato e quando hai detto la frase effettivamente non esistono sport qui c'è solamente un atleta sport individuale effettivamente è così infatti c'è una frase di che piace molto di arnold schwarzenegger che dice non credete agli uomini che dicono che si sono fatti da solo da soli perché non è vero c'è sempre un team mai sempre avrei sempre dei mentori per sempre qualcuno che ti aiuta poi durante il percorso e per quanto riguarda lo stato di flusso ho parlato con diversi atleti magari anche amatori andavo a vedere l'incontro e il modo in cui si muovevano il modo in cui reagivano faceva dire cavolo queste cose qui quasi che non l'ho mai vista in allenamento mi chiedi come hai fatto è naturale non me ne sono neanche accorto cavolo hai fatto una prestazione incredibile non te ne sei neanche accorto ma guarda perfino da allenatore posso descrivere che cosa sia è proprio il momento in cui tu hai di fronte la squadra che sta giocando la pallavolo che vuoi tu e tu non devi far niente non devi devi solo cercare di non fermare quella magia che si che si innesca no è ovvio che non succede sempre perché sennò sarebbe troppo facile però per arrivare lì certamente invece c'è per arrivare a eseguire in maniera ripeto quasi automatica un gesto un esercizio eccetera eccetera servono come nella parte sommersa dell'alberg migliaia di ore di allenamento e soprattutto di errori ripeto io il rapporto con l'errore è una cosa che che in italia insomma abbiamo una cultura un po un po strana col rispetto a questo tema invece l'errore qualunque allenatore ti ti potrà come dire spiegare con grande evidenza che che non esiste processo di allenamento senza l'errore esatto non si può migliorare se non si sbaglia chi chi non fa non sbaglia diciamo che se io volessi allenare un ragazzino di 13 anni attaccare la diagonale stretta nella pallavolo e gli chiedessi di non sbagliare mai magari vinco anche il campionato under 13 perché ovviamente lì controllare il numero di errori serve ma certamente non costruirò un atleta che diventerà un atleta di vertice perché appunto è necessario passare attraverso l'errore e poi ovviamente la qualità del feedback rispetto all'errore assolutamente ne parliamo diciamo sempre qui qui su cogito e anche fuori non c'è errore c'è solo feedback che tu puoi dare a te stesso e poi ci sono ovviamente la qualità del feedback perché anche quello importante se faccio delle critiche distruttive alla persona le faccio capire e attacco la sua persona la sua identità ovvio che questa persona non può evolvere appunto non può crescere posso dire un'altra cosa sì noi siamo sempre molto attenti e anche strutturati in una certa maniera nella capacità di erogare feedback ma c'è tutto un lavoro gigantesco da fare sulla capacità di ricevere feedback assolutamente che è tutta un'altra storia e normalmente se ne parla molto di meno ma è la tua capacità di ricevere feedback che innesca il processo di miglioramento quindi anche di come se interpretare quello che l'altro ti manda e come tu anche le loro rimandi un po anche il discorso dell'ascolto attivo non solo ascolto per ti rimando quello che sento e tu mi rimandi quello che senti e così un ascolto empatico potremmo dire sì diciamo nel rapporto allenatore l'atleta lo scambio del feedback è veramente come un passo di tango cioè bisogna proprio essere in due penso che un passo a due esatto un'erogazione unilaterale non porta anzi spesso innesca quello che tu dicevi cioè l'interpretazione con il giudizio invece bisogna un po uscire dal tema del giudizio e essere capaci di dare feedback precisi misurabili osservabili esatto riproducibili rispetto all'obiettivo che tu definisci quello innesca il processo nella pallavolo siamo fortunati perché diciamo la cultura per esempio la cultura della statistica dei dati statistici è una cultura diffusa cioè non sono solo gli allenatori che si divertono a passare notti a leggere sono gli atleti stessi che alla fine della partita vanno a vedere e hanno una valutazione oggettiva perché se io ti alleno in battuta tu finisci l'allenamento e io ti dico guarda oggi è proprio battuto male e però magari perché quello era bene o benino se io ti dico oggi alleniamo la battuta hai 50 battute da fare nell'assoluto allenamento e hai un margine d'errore del 10 per cento al massimo se tu finisci col 12 per cento non c'è dubbio che l'obiettivo non è stato raggiunto come si dice statistico no eh sì perché lui prima ha provocato dicendo quanto ne sapevo di matematica e quindi volevo bullarmi sul fatto che di statistica un pochino è giusto è giusto e parlando di obiettivi mi è venuto in mente il il paradosso dell'arco bellissimo io mi intrometto nella sua domanda perché veramente mi ha lasciato qualcosa dentro che ho passato tutta la notte a pensare a questa cosa perché ho detto come ha fatto a non pensarci mai prego Daniele e con una metafora praticamente ha racchiuso tutto il coaching per quanto riguarda gli obiettivi ma è vero cioè ricollegarsi un po' a quello che è venuto fuori ieri sul fatto che bisogna sempre adattarsi non è quello il mio risultato quello il mio 10 da beccare con la freccia basta finito no devo considerare tutto il contesto guarda nello specifico il paradosso dell'arcere invito chiunque ci stia ascoltando trova un sacco di documentazione su internet immagini molto affascinanti produce questa cosa molto curiosa che che io all'inizio quando mi sono avvicinato quello sport che non conoscevo veramente mi ha incuriosito e cioè il fatto il fatto che per colpire l'obiettivo tu quasi sempre o almeno molto spesso mi ride un'altra parte che è una cosa contro intuitiva nel senso che ogni umano che vuole colpire una cosa mi hanno portato a mirare nel punto in cui vuole arrivare con la sua freccia con una pietra se vogliamo colpire una roccia sulla spiaggia e invece questo paradosso che è una questione di aerodinamica no quindi questa freccia che si muove in maniera scodinzolante nel suo volo insieme ai fattori esterni che quelli non sono invece minimamente nel controllo dell'arcere il vento la pioggia le condizioni di luce no la soluzione di tutta questa diciamo questo complesso di fattori determina la scelta del punto di mira che quasi sempre non è il punto in cui tu vorresti che la freccia andasse a colpire ed è bello perché significa che tu stai usando tutti quei fattori quelli in tuo controllo ma anche quelli non in tuo controllo facendo diventare degli alleati non dei problemi come dire degli ostacoli ma degli alleati che proprio grazie a questa interferenza permetteranno alla freccia di andare a finire proprio lì dove tu volevi è una bellissima metafora un po come il detto sì come acqua no adattati a tutto c'è quel aforisma diciamo orientale che è un po un po questo bene ti ti ringraziamo molto davvero un piacere una bella chiacchierata e niente come possono seguirti chi vuole come andrà raccontaci un po di questo lecture show tanto non potrò mai dimenticare monfalcone perché questa è ripartita dopo 493 giorni in camerino facevo i conti ma quando era l'ultima volta che sono stati in un teatro ed era il primo febbraio 2020 insomma da qua riparte anche questa esperienza che come avete capito insomma ieri c'eravate non è una una performance teatrale nel senso che non gioco a far l'attore mi piace raccontare quello che ho imparato dalle mie esperienze sportive miscelandole però con altri territori che ripeto risultano poi spero almeno nell'obiettivo mio far dimostrare che 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 non sono lontani anzi lo sport l'arte la letteratura la musica hanno molto in comune e quindi insomma questo viaggio riparte speriamo di non rifermarlo ovviamente nei teatri e poi insomma la mia attività un po di docente e così insomma qualche volta chi lo desidera sui miei account social di qualche riflessione mi piace pubblicarla ogni tanto un mini lecture show ti do un feedback ecco sensorialmente basato su quello che è stato per me ieri io e daniel abbiamo avuto la fortuna di poterti vedere ieri e di poterti soprattutto ascoltare ne parlavo proprio ieri sera quando appena siamo usciti dal teatro ho detto questo è un uomo che ha proprio passione per quello che fa beh diciamo che avendo passato alcune discontinuità anche nella mia vita mi occupato di cose anche molto diverse fra di loro torno all'inizio da dove abbiamo incominciato certamente servono delle skill delle competenze tecniche che però oggi anche più facile costruirsi nel senso l'accesso al sapere molto più trasversale ampio facile e quant'altro però serve quello dico a te che sei appassionato ed esperto di pugilato quello che mohamed ali diceva chiamava will e che lui diceva essere più importante delle skill perché quel percorso passa necessariamente attraverso alcune caratteristiche alcune ovviamente individuali e altre allenabili che riassumerei in un bellissimo concetto di curiosità quando tu hai quella fortuna diciamo insomma questo viaggio può arricchirsi anche di cose apparentemente diverse una dall'altra che poi scopri essere tutte arricchenti bene direi che abbiamo fatto un bel viaggio evolutivo anche oggi se lo dite decisamente decisamente grazie grazie ancora mauro e bene che dire cari amici di cogito ergo e volvo questo era cogito ergo miglioro e ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 grazie